E' bella che devo capire questi spazi che non capisco dei messaggi. Ma quello si fa che spagli dal mio avuto città. E qui come un po' l'anno avanti sono arrivato a casa, non è più che in città però. E' arrivato a casa, che è arrivato in casa. Se arrivato a casa, se arrivato a casa e a casa la famiglia, sono in casa. Oh, guarda. E' arrivato, arrivato. Come dove ero andato a vero qua? A quali cose? Però che si sonato la filia a finita. Sì, la cera con la mano dentro qui e allora era tutto finanziato, no? Eh, ok, ok, ma allora sempre qua, per tenturire, la coppia, non mi ha messo la camicia. E qui come ho sempre la mano qua, vicino a un lato, niente, è vero? Cazzo, il senso è logico, benissimo. Molto bello, è lì. Sì, grazie, lo sento di buon'altro, eh? Fa proprio il buon'altro, sì. Anche? Perché dopo la testa in giù, e sta un avviso a testa in giù, la grana traccia in là, mi correva. Ma io la metto a passare a giù, perché con le mani sta attivata così. Ma come l'avranno guarito con dei massaggi, forse? Con di fissare la gerogia. Mi è venuto in mezzo, adesso una cosa, non ci pensavo. Io un tempo fa, in vacanza, ho conosciuto questo ragazzo, che poi ha scoperto specificamente i massaggi, ragazzi.